Grandi appuntamenti all'Aeroporto Militare di Cameri, in occasione dei 100 anni dell'Aeronautica Militare. Domenica 17 settembre, infatti, è in programma la Corsa del Centenario, organizzata dall'Aeronautica Militare e dall'Aeroporto di Cameri in collaborazione con la Società Atletica Trecate. L'iniziativa si inserisce nel quadro degli eventi celebrativi legati ai festeggiamenti di 100 anni dell'Aeronautica Militare. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.